Musica Eccoci nuovamente su Atal Degme, oggi siamo qui insieme a Florido Bodellini e vogliamo fare quattro chiacchiere intorno alla tradizione del nostro territorio grazie Florido per essere qui con noi Prego Grazie anche al Centro Ricreativo Vivi la Vita per l'occasione che ci regalano per mantenere viva la memoria storica della nostra realtà Oggigiorno per mangiare basta andare al supermercato Tu lavoravi come panettiere, come si rimediava la maniuga ai tuoi tempi? Con che mezzi? Io andavo a lavorare in bicicletta e portavo il pane a domicilio a tutte le famiglie Avevo 120 famiglie tutti i giorni da portare il pane Ci erano parecchie E su per le scale volavo e quei condominio che gli assessori non c'erano E si guadagnava così la vita Quindi sostanzialmente lavori molto semplici Sì, per essere non era difficile, solo che ci voleva molta energia E un pespe non mi mancheva Cosa ti piaceva mangiare quando eri piccolo? Quello che c'era, non è che avevo delle preferenze Lei abitava San Giuliano Mare, detto Barrafonda Beach Sì Quali erano le condizioni di vita? Come passava il suo tempo libero? Quali erano gli svaghi? Gli svaghi, da bambino si giocava con i fucili, con l'elastico, con le palline, con le biglie Poi crescendo dopo si andava a ballare con la perla verde di Riccione Erano i primi approcci Quindi sostanzialmente giochi molto semplici Sì, sì, semplicissimi, innocui Come erano gli stipendi a quei tempi? I costi della vita di allora? Come erano rispetto ad adesso? Quella volta si prendeva, non mi ricordo, ma si prendeva 10.000 lire alla settimana, 40.000 lire al mese Quindi la vita era, dal punto di vista economico, era più semplice di adesso o più difficile? Era difficile perché non bastavano Erano semplici perché le cose costavano molto meno di adesso Adesso cosa compri? Con 5 euro faccio per dire di una volta Adesso non si compra una bibita Un'aranciata Ci raccontavi prima la storia del tuo matrimonio Vuoi raccontarci com'è conosciuto tua moglie? Sì, mia moglie l'ho conosciuta che portava il pane in un negozio nel borgo San Giuliano Dei fronti alla chiesa I suoi genitori avevano comprato questo negozio venendo giù da San Marino E io questa ragazzina gli portavo il pane La domenica la invitavo ad andare al cinema È stato un colpo di fulmine E la sua mamma la gente gli riportava che lei aveva 12 anni, capirai Per me lei c'è 7 anni di differenza e io ne avevo 19 Era un po' più grandino Insomma Poi era abbastanza ben sviluppata E avvenne che dopo di un anno che uscivamo insieme la domenica I negozi i suoi genitori l'hanno venduto e sono venuti ad abitare di nuovo a San Marino E mecco Scafasche Avevo una miseria che non avevo una lira Andavo a lavorare in bicicletta Non potevo andare di certo da Rimini in bicicletta tutte le domeniche E non ci siamo visti più E non ci siamo visti più Dopo di un anno Un sabato sera Siccome io tutti i sabati andavo a prendere i soldi ai negozi Dei negozi che avevo portato il pane E ritrovo lei con i suoi genitori che erano venuti a trovare Quelli che avevano comprato il suo negozio Infatti mi ha anche un po' riproregrato Quindi mi ha detto non ti sei fatto più vedere Come mai E io gli ho detto Dì io ho la bicicletta Come faccio a venire su San Marino Però nel frattempo avevo comprato la Vespa E gli ho detto Domenica se vuoi uscire Se vuoi uscire Ti aspetto sul Ponte della Dogana Che andiamo a spasso Che siamo andati Quella domenica lì Siamo andati A Castello di Gradara E dopo Succede che La domenica dopo mi dice Guarda che i miei genitori Voglio che mi vieni a prendere in casa Perché non vogliono che Usiamo di nascosto E da quella domenica lì Siamo stati fidanzati cinque anni E poi ci siamo sposati Comunque se quel sabato lì Non ci incontrevamo Non assi che È un destino per me È proprio una bella storia Speriamo Molto molto bella Tu conosci molto bene il dialetto romagnolo E conosci una filastrocca a memoria Vuoi recitarla per noi? Certo Io ho sempre parlato in dialetto Perché i miei genitori in casa si parlavano il dialetto Perciò sempre parlato in dialetto E allora vi racconto questa filastrocca che l'ho sentita da Viserba 2000 Allora Anche se vedi una mattina su un'idea sbarassegna Cosa dico Meravigliosa Non vuoi fare mon'amorosa Ma non vuoi fare tanta fadiga Ma contente Tengo un'amica Un badarello per qualche sera Già mi chiamo un'avventura È una sera con la capanina A me inverno da una scura Le ricche nera Che ne so se era bronzata O se le ricche da quanto le neda Avevo il palè Tornava bene E non va a essere lento Non si smostra quanticente Avevo il mare in su un muscolo E quindi si fanno i miei Strescia qua, strescia da là A svegli come clavata Che dappi arriva bene Quando arriva il Monticello E mi è arrivata una vampeda Su una pozza di scalfarecce Che non ho potuto più fare pece E io ho detto Burlazza, scusa ma Se vedi in Germania non scusa Può tristare per trasgressare Ogni tempo non c'è quella E io l'ho portata a pensione E adesso è la sua delusione Mi sono svegliato una mattina Con un'idea sbarazzina Cosa dico? Meravigliosa Mi voglio fare un'amorosa Non voglio fare tanta fatica Mi accontento anche di un'amica Una cosa passeggera E una sera nella capanina Mi imbatto in una donna scura Era così nera Che non lo so Se era abbronzata O se è così Come quanto era nata Vado su a ballare Tra un vals Tra un vals Tra un vals Un valser lento Mi si è mosso il sentimento Vado giù a marina Sopra un moscone E comincio a fare il limone Striccia di qua Strasse di là Lo sapete come va a finire? Sai che dopo E' venuto il bello Quando sono arrivato lì Mi è arrivata Un'ariata di baccalà Un'ariata di baccalà E gli ho detto Ragazza scusa Ma se il bidet in Germania non si usa Poterti lavatelo ogni tanto E l'ho portata alla pensione E sono rimasta con la delusione Ti è piaciuta? Bella Molto bella Sì Ti ringrazio Florido Per la tua partecipazione Ringrazio anche il centro ricreativo Vivi la vita Vi ringrazio io Dell'invito Alla prossima puntata di A tal degme Ciao 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 Grazie a tutti.